Attore, regista, compositore, sceneggiatore, cantante, doppiatore, potremmo dire uno nessuno centomila, stiamo parlando dell'Albertone Nazionale, uno dei pilastri del cinema italiano. Questa mattina ne vogliamo parlare con un amico di Padre Pio TV, sacerdote, teologo, docente, anche scrittore. Don Samuele Pinna, buongiorno Don Samuele, benvenuto. Buongiorno, grazie, grazie per l'invito. Ci hai preso per mano qualche mese fa, siamo partiti con Terence Hill, passando poi a Bud Spencer. Oggi parliamo proprio di Alberto Sordi, davvero un'icona del nostro cinema italiano. Ci racconti qual è la genesi di questo libro che ricordiamo, abbiamo visto la copertina, edito da Ancora Edizioni, nell'anima di Alberto Sordi? La genesi di questo libro è un po' particolare. Mentre per Bud Spencer e Terence Hill nasceva dall'affetto che io nutro per loro, per i loro film, ma anche per le loro persone, questo libro invece mi è stato richiesto proprio dall'editrice Ancora. All'epoca era direttore padre Giuliano Fedre e mi aveva detto se si poteva fare per il ventesimo dalla morte appunto un libro che potesse ricordare Alberto Sordi. Il titolo è già evocativo, non tanto e non solo come attore, ma anche come persona, quindi lo studio un po' dell'umano. Io però sapevo di Alberto Sordi un po' quello che sanno tutti, quindi era un po' poco in realtà. E quindi ho dovuto e ho voluto anche con gioia mettermi a studiare, a leggere, a capire, a guardare le interviste, a rivedere i film. E in questo percorso mi sono fatto aiutare anche dalla curatrice Federica Favero, che mi ha sostenuto perché all'inizio ero un po' spiazzato. Da dove partire per raccontare di Alberto Sordi? È vero, mentre su Terence Hill probabilmente sei più ferrato perché hai raccontato di aver visto e sempre amato i suoi film. Ecco tu, Don Samuele, ti definisci in maniera anche molto, ecco, umile così, ti definisci un non esperto di cinema. Il tuo è stato davvero un viaggio, come dicevi, nell'anima di Alberto Sordi, come uomo e come attore. E allora, raccontaci che cosa hai scoperto. Sì, io non sono un esperto di cinema, anche se poi preparando questi testi ho dovuto studiare un pochino, però lungi da me dire di essere un esperto. Anche perché quello che mi interessava non è tanto la tecnica di recitazione piuttosto che altro, ma l'umanità che ci sta dietro a questi personaggi. E ovviamente cerco e indago quell'umanità che a me piace. Cosa ho scoperto? Ho scoperto tante cose. Ho scoperto una persona dall'umanità bella, grande, un esempio, si diceva che lui era varo, anche questa cosa poi ormai è di dominio pubblico e smentita. Lui ci ha cavalcato su da buon romano, nel senso che gli serviva per non avere dei fastidi, ma in realtà era un uomo molto molto generoso. Ho scoperto che era rispettoso verso il pubblico, ecco che già questo episodio dice come l'avarizia non sia una realtà vera nella sua vita. Rifiutava ad esempio di fare le pubblicità, perché diceva io devo tutto al mio pubblico, figuriamoci se con sto faccione mi metto a dire compra questo o compra quello. E io devo tutto a loro e ho un grande rispetto per il pubblico. E ha rinunciato, si può immaginare facilmente, anche a dei cachet molto alti per fare delle pubblicità. Ecco, per dire il suo rispetto. E poi il fatto di non essere assolutamente mondano, anche tutta la storia delle amanti, eccetera, lui era molto pudico, guai a parlare di queste cose, gli dava proprio fastidio. E poi la cosa che ovviamente mi ha colpito di più, a cui dedico un capitolo, è proprio la sua fede cattolica, una fede molto molto forte, molto granitica. Tanto è vero che Carlo Verdone lo definiva una iattolla cattolico, per dire quanto fosse su queste cose molto serio. Ecco, hai parlato appunto di Alberto Sordi e della sua fede, visto che mi hai, come dire, anticipato questa domanda. Che cosa puoi raccontarci in merito, magari senza svelare troppo, così lasciamo anche un po' di curiosità verso il tuo libro, Don Samuele. Sì, grazie. E la sua fede era una fede molto semplice, ma molto ferma e molto chiara. Semplice nel senso che gli insegnamenti che abbiamo imparato tutti al Catechismo, per lui erano diventati ciò che gli permetteva di vivere nel quotidiano, nel bene la sua vita. Una grande devozione a Maria, aveva una statua nel giardino di casa raffigurante alla Madonna e ogni giorno c'era un pensiero, un Ave Maria per lei e gettava prima di uscire sempre una rosa, segno di devozione. E poi la messa che non poteva perdere alla domenica e quindi era un, come dire, un rituale. La domenica si alzava più tardi, poi faceva una passeggiata a piedi andando in chiesa, messa, poi tornava e c'era la grande mangiata della domenica romana e poi il riposino, eccetera. Però ecco, queste abitudini che dicono anche un'umanità, una bellezza, una ricerca anche delle cose che contano davvero. Ecco, per esempio la domenica lui se doveva recitare in un film, la domenica mattina non lo faceva perché aveva la messa. Ecco, e la cosa bella che a me ha colpito è che non ne faceva un mistero, diventava per lui una testimonianza dire queste cose. Oggi sarebbe ancora più difficile, ma già ai suoi tempi non era propriamente una cosa che si diceva per farsi pubblicità. La fede doveva essere un po' nascosta. Invece lui non aveva nessun problema a dire che credeva e che credeva in maniera molto concreta. E Don Samuele, molto interessante riportato anche nel tuo libro l'incontro con il cardinale Gianfranco Ravasi che ha conosciuto personalmente Alberto Sordi. Ecco, che cosa hai scoperto attraverso le sue parole? Ecco, mi è stato un po' confermato questo, nel senso che Alberto Sordi con il cardinale Ravasi ha avuto una vera amicizia, anche se si sono poi, per ammissione dello stesso cardinale, incontrati poco e per sua eminenza è stato anche un po' un dispiacere non aver coltivato di più appunto questa relazione. È solo confermato quanto ho detto prima, nel senso che anche Ravasi ha sottolineato questa fede molto forte, questa fede anche molto semplice, nel senso che Sordi diceva quello che mi insegna la Chiesa io ci credo e mi sento libero e mi sento in qualche modo supportato nella mia vita. L'importanza della preghiera, ecco, una persona potremmo dire normale che però mi ha insegnato questa cosa molto particolare, la fiducia, la fiducia nella Chiesa, che invece oggi è un po' messa in discussione o sempre, insomma, nella storia c'è un po' di discussione. Invece lui diceva, no, mi fido perché ho capito che quella era la verità delle piccole cose quotidiane. Ecco, Ravasi rileggeva questo, poi mi raccontava appunto cose che ormai sono pubbliche e che lui ha ricevuto quando ancora non si sapevano e che lui ovviamente ha custodito fino alla morte dell'attore. Per esempio, Ravasi racconta che Alberto Sordi era molto legato a sua mamma e Ravasi gli dice che avrebbe detto una messa di suffragio e Alberto Sordi fa una cosa che faceva pochissimo. Il giorno dopo gli scrive un biglietto ringraziandolo. Ecco, per dire anche la comunione più spirituale, forse Alberto Sordi ha visto nel Cardinale una persona con cui potersi aprire e fidare sapendo che non veniva tradito in questa fiducia. Don Samuele, abbiamo iniziato questa intervista definendoti un non esperto di cinema, tu stesso insomma ti definisci così nel libro. Posso chiederti quali film di Alberto Sordi hai visto per la prima volta, anche appunto sapendo di dover scrivere un libro con lui e quindi di doverti approcciare alla sua figura, alla sua personalità di uomo o di attore. O magari quali film hai rivisto e perché no anche con un occhio diverso dopo aver visto il libro, dopo aver incontrato persone che lo hanno conosciuto. Sì, i film che avevo visto di Alberto Sordi in realtà erano pochi perché da ragazzo, sapete, i film di Alberto Sordi hanno uno spirito solitamente, ecco, non tutti ma la maggior parte dei film è così, lui prende le parti in persona, sempre un personaggio negativo. E questo lo fa perché il messaggio che vuol dare è non bisogna essere così e non bisogna neanche avere amici del genere. Quindi sono film che io da ragazzo non mi facevano neanche vedere, tranne qualcuno, tipo quello bellissimo con Totò, Totò e il re di Roma, dove fa anche lì un personaggio bieco, però un film leggero. E un film che aveva colpito da ragazzo era quello sul, quel signore che ha un cavallo a Roma e porta in giro i turisti, che si chiama Nestore. Il titolo è Nestore. Ecco, quelli erano film, anche quello è un film molto bello. Poi ho rivisto tutto con gli occhi ovviamente di chi doveva scrivere, quindi ne ho visti parecchi, non posso dire tutti, ma parecchi. E sicuramente il film che per me rimane tra i più divertenti è Un americano a Roma, dove lui fa questo ragazzotto di Borgata, però un po' l'americano, anticipando i tempi. Ecco, qui abbiamo l'immagine. Iconica proprio. Esatto, lui che mangia la pasta. Anticipando i tempi, ecco, un'altra cosa di Alberto Sordi che ho scoperto, che lui anticipava i tempi con i suoi film. Questa moda americana non era ancora arrivata in Italia e lui però intuisce che sta per arrivare. Come un altro film terribile, nel senso che lancia un messaggio abbastanza forte, il boom di De Sica, dove lui intuisce già che succederà qualcosa nel benessere economico che è molto più fittizio che reale. Siamo negli anni Sessanta. Piuttosto che Il medico della mutua, altri film che ci fanno sorridere, ma sono tremendi, nel senso che denunciano con vigore una realtà, una realtà che non va bene, insomma. Quindi poi lo riletti in questo modo. e mi ha stupito molto la sua capacità di saper guardare la realtà e anticiparla un pochino per dare un messaggio. È quasi un aiuto. C'è addirittura un esperto di cinema che dice quasi la sua funzione è cristologica. E a me mi ha colpito questo. È come se lui ha messo su di sé tutti i mali per denunciarli e per dire attenzione a non seguire questa via. Don Samuole, è sempre un piacere parlare con te e avrei tante altre domande, ma naturalmente, come sempre, gli spazi televisivi sono un po' stretti. Ti ringraziamo di cuore per essere stato con noi. Attendiamo il tuo prossimo libro, ricordando questo, dedicato all'Albertone nazionale, nell'anima di Alberto Sordi, ancora editrice, scritto da Don Samuele Pinna, insieme. Vuoi ricordare il nome della curatrice? Federica Favero, che mi ha aiutato molto, quindi se lo merita. Ecco, grazie ancora per essere stato con noi. Alla prossima occasione. Grazie a Don Samuele Pinna, lì nella regia. Grazie a Don Samuele Pinna, lì nella regia.